Certo, chiarissimo, vuole degli arredi. Tutti a forma di fiore. Porte e finestre comprese. Certo, ma li preferisce a forma di margherita o di tulipano? Con la giusta soluzione. Nessuna richiesta è impossibile. Scegli iForniture, il software per gestire al meglio la produzione e la vendita di arredi per casa e uffici, infissi e outdoor. Anche a forma di margherita. Scopri di più su i-forniture.it iForniture è un software APRA, VAR Group.